Rigocherà Grossi dal primo minuto e giocherà davanti con Polidori, questi sono i due che faranno coppia nel tandem offensivo. E poi ci saranno gli altri, così a meno vi sbizzarrite a cercare di indovinarli, che dovranno avere la certezza assoluta che sarà una battaglia, che sarà complicato per la qualità dell'avversario, per come stanno in campo, perché io ho visti anche a Siena, fino a 65 esimo avevano la partita in mano, la stavano dominando, poi solo per un po' di episodi strani e sfortunati. Nel finale hanno perso una partita che mai e poi mai, per chi l'aveva vista fino al 65 esimo, l'avrebbe pronosticato. Un avversario scorbutico che ha molta qualità sugli esterni, dove ha ritrovato un giocatore importante nella fase realizzativa come Jefferson, che veniva da un infortunio e che era stato fuori per diverso tempo e che sicuramente vorrà cercare tra le mura amiche di poter centrare matematicamente i play-off, ma noi non ci possiamo permettere di lasciare altri punti per strada perché vogliamo mantenere questa posizione, visto che non siamo stati bravi a farlo con il Prato, dobbiamo avere la forza per poter riprenderci qualcosa in terra straniera in quel di Viterbo. Dobbiamo essere un pochettino più cattivi, un pochettino più bravi anche nell'andarci a prendere qualche palla sporca, anche nel mettere quella vigoria atletica, quell'agonismo sano che ti ha portato tantissime volte, soprattutto in casa, a raddrizzare o a vincere partite solo ed esclusivamente per questa fuga agonistica che poi alla fine è anche quella che viene apprezzata tantissimo dai nostri tifosi. Paradossalmente ti viene apprezzato di più una partita gagliarda che era una partita molto buona dal punto di vista della gestione della palla, dal punto di vista dello sviluppo del gioco, magari anche basso perché noi fino al gol del 2-1 abbiamo fatto un'ottima partita contro un avversario che aveva messo in grande difficoltà sia l'Alessandria che la Cremonese, però poi dopo quando siamo andati sotto, quando abbiamo subito il secondo gol, la prima volta in cui venivano dentro la nostra era di rigore nel secondo tempo, da lì c'è stato un possesso palla troppo sterile e non siamo riusciti a colmare quel gap con la voglia di andare a mordere l'avversario e a dire oh signori se non ci arrivo con le buone ci arrivo con le cattive.